Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi un nuovo video a tema Harry Potter, ho tantissime cose da mostrarvi, tante novità, ma prima di cominciare vi ricordo che su Pampling, utilizzando il mio codice sconto 7Potter, avrete sempre con ogni acquisto un paio di calzini nerd in omaggio e il codice sconto è sempre accumulabile con tutte le offerte in corso su Pampling. E in infobox trovate anche la mia vetrina Amazon con tantissimi articoli scelti da me e acquistando tramite i link che trovate in infobox aiutate il canale a crescere e naturalmente trovate anche tutti gli altri link ai prodotti che vi mostrerò oggi. Quindi ragazzi, bando alle ciance e cominciamo. I primi invi di questo mese sono stati da parte di Salani, che ringrazio tantissimo, ve li ho già mostrati su Instagram, ma ci tenevo anche a mostrarveli qui perché non tutti mi seguite anche su Instagram, mi trovate come Antonio.seria. E ragazzi, mi è arrivato questo che è l'ultimo libro di Robert Galbraith, che come ormai saprete è J.K. Rowling sotto pseudonimo. Questa è la saga di Cormoran Strike e questa è la sua ultima indagine, che si intitola Sangue inquieto. Io sono super fan dei libri di Robert Galbraith e ragazzi, mi piace tantissimo, ho anche visto la serie TV che è stata realizzata e ve la strastra consiglio, è davvero molto interessante. E naturalmente non vedo l'ora di leggere questa, che è l'ultima avventura, che in realtà è uscita già da quasi un anno, ma io non avevo ancora avuto modo di recuperare e quindi grazie mille a Salani per avermela inviata. Ma ringrazio doppiamente Salani perché mi ha anche inviato questo, che è il nuovissimo libro di J.K. Rowling. Anche questo ve l'avevo già mostrato su Instagram, me ne avevo già parlato e io l'ho cominciato, sono già a metà lettura e ragazzi, devo dirvi che mi sta piacendo davvero tanto. È un libro naturalmente per bambini, per ragazzi ed è una storia natalizia, come si evince dalla copertina. Qui abbiamo la fascia che ci ricorda che è il nuovo romanzo dall'autrice di Harry Potter e la cosa che mi è piaciuta tantissimo, oltre che la copertina che comunque è davvero ben realizzata e super super natalizia, così come la costa del libro, mi ha colpito molto che anche all'interno, togliendo la sovracopertina, abbiamo finalmente una copertina stampata. Quindi davvero tanti tanti punti questa cosa, anche perché mi hanno già chiesto alcuni amici di prestarglielo e io lo presterò senza sovracopertina, perché non vorrei la rovinassero. Ma così comunque il libro resta davvero super super bello. È un racconto di Natale. Viene detto che questo libro potrà diventare uno dei prossimi classici di Natale. Io non lo so se questo è vero, se questo accadrà, però posso dirvi che fino a questo momento mi piace molto. E in alcuni tratti mi ricorda molto Toy Story. Non voglio farvi spoiler, ma naturalmente già dalla copertina si vede che abbiamo dei giocattoli parlanti. Ed è molto molto interessante. Abbiamo questo bambino che perde il suo maialino di pezza in autostrada e dovrà andare alla ricerca di questo maialino nel mondo degli oggetti perduti. E ci andrà assieme al sostituto che gli viene regalato il giorno di Natale del maialino stesso. Quindi questa è la versione nuova del maialino che andrà a cercare la vecchia versione che il suo padroncino ha perso in autostrada. E naturalmente vivranno mille avventure e affronteranno anche un cattivone. Quindi ragazzi, io sono a metà lettura e devo dire che mi piace molto il libro. E' anche illustrato. Ci sono delle illustrazioni molto molto carine. Ad esempio questa qui con i due protagonisti che scappano dal cane di famiglia. Ma ce ne sono davvero tante. Se ne incontrano parecchie. Volevo farvene vedere qualcun'altra. Ecco qui. Ad esempio questa a inizio capitolo. Ha due pagine ma ce n'è una ad ogni inizio capitolo col titolo. Quindi davvero molto molto carina. E non mi stupirebbe se facessero magari una serie animata su quest'opera. Io la vedrei benissimo ad esempio su Netflix. Una serie natalizia. Ci starebbe tantissimo. Quindi non ci resta che aspettare. Io ragazzi vi lascio il link sotto in info box per acquistarlo. E si chiama Il maialino di Natale. Andiamo avanti con un altro pacchetto. E in questo caso non si tratta di Harry Potter ma sono super super contento di averlo ricevuto. Perché arriva da Universal Picture Home Entertainment. E ragazzi sono super contento perché questo significa che finalmente la situazione Covid si sta un pochetto sbloccando. Perché non ricevevo più home video da quasi praticamente due anni. Dallo scoppio della pandemia. Perché ovviamente non essendoci film al cinema tutto il mondo dell'home video cinematografico si è un po' bloccato. Visto che tutti hanno deviato le uscite sulle piattaforme di streaming. E finalmente stanno cominciando ad arrivare di nuovo gli home video. E ragazzi questo è un segnale che mi rincuora parecchio. Perché piano piano stiamo tornando alla normalità. E qui ecco che abbiamo questa bellissima uscita che è un'edizione speciale in Steelbook di Bastardi Senza Gloria. È un'edizione Steelbook limitata 4K. E ragazzi Bastardi Senza Gloria è praticamente uno dei miei film preferiti. E lo guardo sempre con piacere quando lo mandano in televisione. Io sono appassionato del mondo della caccia ai nazisti. E quindi mi piace tantissimo questo film. E sono super super fan. Sicuramente ne approfitterò a dicembre durante magari le vacanze natalizie. Per riguardarlo in 4K. Perché sono davvero super super curioso. Vediamo come si presenta all'interno. Ed ecco qui all'interno abbiamo due Blu-ray. Quello 4K e quello classico. Con naturalmente all'interno il film. E poi abbiamo anche tantissimi contenuti speciali. Come scene stese, scene eliminate. Abbiamo le conversazioni con il regista Quentin Tarantino. Con Brad Pitt. E abbiamo anche ad esempio il making of. E tantissimi altri contenuti che mi andrò a spucciare. Quindi grazie mille a Universal Picture Home Entertainment. E naturalmente link in infobox. Questo invece è un pacco che mi arriva da Ilina Jewelry. Ed è un gioiello appunto a tema Harry Potter. Questo qui mi è stato omaggiato. E semplicemente qualche tempo fa ero su Instagram. Stavo scrollando i feed. Stavo guardando le storie. E mi è apparsa questa storia con questi gioielli. E io semplicemente ho commentato che con un apprezzamento questi gioielli realizzati da questo ragazzo. E poi lui mi ha contattato e mi ha detto che gli avrebbe fatto piacere inviarmene uno. E quindi eccolo qui. Naturalmente trovate la sua pagina Instagram sotto in infobox. E adesso vediamo cosa mi ha mandato. Mi ha spiegato che è possibile scegliere il tipo di collana, il tipo di maglia della collana, il tipo di lunghezza. I suoi gioielli sono in argento 925. E poi ci sono diversi ciondoli anche a tema Harry Potter. Tutti in argento e personalizzabili. Alcuni hanno delle incisioni e queste incisioni possono essere personalizzate in diversi colori. C'è anche la lettera di Hogwarts. Ci sono davvero cose molto molto carine. Doni della morte e tantissime altre cose. Quindi ecco qui il nostro gioiello che adesso andremo a vedere. Io ho scelto una collana in stile veneziano che non conoscevo i nomi delle maglie e delle collanne. Lui me l'ha spiegato e quindi ho scelto lo stile veneziano. Ok, ecco qui la scatolina super super carina. Mi piace un sacco. E adesso andiamo a vedere l'interno. Wow, è davvero molto molto bella. Questa collanina è super luccicante. I doni della morte sono davvero fatti super super bene. Ragazzi adesso ve lo mostro più da vicino ma è davvero impressionante la qualità. Davvero davvero super complimenti. Mi piace un sacco. È davvero bellissimo. Posso dirvi che dalla pagina Instagram probabilmente non rende così bene. Sono davvero super super sbalordito. Davvero molto bello. Lui mi raccontava che ha unito la sua passione per CAD alla passione per Harry Potter. E quindi ecco che è nata questa idea di realizzare questi gioielli in argento. E ragazzi sono davvero stupefatto. È davvero molto 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 bello questo ciondolo. E anche la collanina è davvero sottilissima. Come piace a me. A me non piace indossare cose collane pesanti. Collane troppo vistose. E questa mi sembra perfetta. Quindi davvero grazie. Grazie mille. Sono commosso. Sono super super contento. E vi lascio i link in infobox. Andiamo ancora avanti perché c'è tanto da vedere. Questo è un mio acquisto invece. L'ho acquistato proprio su Amazon naturalmente. E si tratta di un libro. Ragazzi è appena uscito il meraviglioso Mago di Oz. Illustrato da Mina Lima. Ma non l'ho naturalmente ancora visto. Non l'ho aperto. E mi piacerebbe mostrarvelo in un video. Fatemi sapere se siete interessati. In passato vi ho mostrato tutti gli altri. Quindi nel caso commentate sotto. Fatemi sapere se vi interesserebbe guardare questo libro all'interno. E sfogliarlo assieme a me. Io osseggo già tutti quelli precedenti. E naturalmente ragazzi tra qualche giorno mi arriverà anche la versione illustrata. Sempre da Mina Lima. Della Camera dei Segreti. E quindi quella naturalmente ve la mostro a prescindere. E arriverà presto anche quel video. Sono super curioso di guardare tutti gli inserti di questo meraviglioso Mago di Oz. La linea classici di Mina Lima è davvero bellissima. Io ho tutti gli altri che comprendono La Bella e la Bestia. La Sirenetta, Pinocchio, Alice nel Paese delle Meraviglie. E altri che sinceramente a momento non mi ricordo. Se non sbaglio le fiabbe di Anderson. Comunque ragazzi sono molto molto belli. E da quello che ho capito da una delle loro ultime interviste. Ne arriveranno ancora. Quindi davvero super super contento. Altro libro che invece ho preso sempre su Amazon. E l'ho preso ragazzi quest'estate. Quindi erano forse fine luglio, primi di agosto. Ma mi sono ricordato solo adesso che dovevo ancora mostrarvelo. E' questo qui. Harry Potter and the Cursed Child, The Journey. Ragazzi, questo volume qui io l'avevo già visto a Londra. Quando sono andato a vedere dall'esterno il teatro dove era messo in scena Harry Potter e La Maledizione delle Rede. L'avevo visto anche in vendita al binario 9,75. Però il prezzo di copertina devo dire che è piuttosto alto. Si tratta di un libro in lingua inglese naturalmente. Non c'è in italiano. Qui non riesco a trovare il prezzo. Ma comunque costava parecchio. E infatti non l'ho preso all'epoca. Poi mi trovavo su Amazon mentre ero in spiaggia. E scrollando tra le cose ricondizionate a tema Harry Potter. Ecco che ho visto che Amazon aveva una quantità infinita di questi volumi qui. A soli 4 euro se non sbaglio. Più un euro e qualcosa di spedizioni. Quindi mi è costato circa 5 euro. E che fa? Lo lasci lì? Non lo prendi? No, naturalmente lo prendi. L'ho preso al volo. Mi è arrivato dopo un bel po' perché è arrivato dall'Inghilterra. E, cosa molto triste, ho dovuto anche pagarci la dogana. Se non ricordo male, roba come un euro e qualche centesimo di dogana. Io stupidamente ho gettato via la ricevuta del postino e Amazon non mi ha rimborsato la dogana. Perché dovete sapere che acquistando su Amazon, anche se dovessero chiedervi la dogana, mostrando la ricevuta, Amazon vi rimbossa. Io l'ho buttata, l'ho persa e quindi niente, non mi è stato rimborsato un picco secco. Ma alla fine l'avevo pagato 5 euro. Quindi più la dogana sono arrivato a 6 euro, 6 euro e 50, figuriamoci. Questo libro, ragazzi, è davvero molto molto bello. È un libro illustrato, un libro fotografico più che altro, con tutte le scene tratte dalla FIS teatrale. Abbiamo anche tutto il making of, tutti i dischizzi, i bozzetti. È davvero un libro molto molto interessante e sarei super contento di mostrarvelo nel dettaglio, di farci un video dedicato. Fatemi sapere se la cosa vi interessa, se vi piacerebbe vedere questo video qui sul canale, perché secondo me ne vale abbastanza la pena. È un libro fatto davvero molto molto bene e poi ne sappiamo davvero poco su quest'opera teatrale. Quindi è anche l'occasione per rubare qualche scena, per vedere qualcosa, visto che non esistono praticamente i video su internet della messa in opera, della messa in scena di quest'opera teatrale. Quindi secondo me ne vale la pena, fatemi sapere sotto se vi piace l'idea. E ultimo, ma non per importanza, ragazzi, ve l'avevo già mostrato anche questo su Instagram tempo fa, mi trovate come Antonio.seria, ve lo ricordo, Anche quest'anno il calendario dell'avvento Lego di Harry Potter. Diciamo che dopo il castello l'unica cosa che mi concedo a tema Lego sono i calendari dell'avvento di Harry Potter. Questo è il terzo, io ho i due precedenti, trovate anche le storie in evidenza su Instagram con tutte le aperture. Anche quest'anno lo apriremo assieme su Instagram, quindi ogni giorno pubblicherò l'apertura del calendario. È un modo carino per passare l'avvento assieme, so che è molto apprezzato, in molti mi mandano anche i messaggi quando dimentico di aprire la finestrella, e quindi è una cosa che mi fa davvero tanto tanto piacere. Quest'anno il calendario è dedicato al primo film della saga, quindi abbiamo avuto il primo che era un po' un miscuglio di tanta roba, era tutto a tema natalizio, ma non c'era un vero e proprio tema. Il secondo calendario era invece a tema Harry Potter e il calice di fuoco, infatti abbiamo avuto tutti gli studenti in abiti del ballo del ceppo, abbiamo avuto la coppa tra i maghi, abbiamo avuto l'uovo della prova del drago, comunque tanti piccoli riferimenti al quarto film. Quest'anno si è deciso di passare alla camera dei segreti. Questa volta abbiamo anche uno schema nella parte qui davanti, che adesso è bloccata ancora dallo scotch, ma adesso vi mostrerò. Ecco qui. La parte qui sul davanti, dove troviamo tutte le nostre caselline, ecco che abbiamo stavolta questa sorta di gioco dell'oca, dove ci sono tutti i numeri delle varie finestre, dove poi andremo a posizionare le varie parti che troveremo nel calendario. E faremo un viaggio all'interno del film, quindi partiremo da Private Drive e poi arriveremo fino alla pietra filosofale. E una cosa interessante è che nell'ultima casella sappiamo già esserci, cosa che non mi è piaciuta, che trovo inutile, e che comunque mi ha anche spoilerato il contenuto, perché è qui illustrata sulla finestra, troveremo una trottolina, che servirà a quanto pare a creare una sorta di gioco su questo tabellone. Sinceramente a me del gioco frega niente, avrei preferito non ci fosse proprio l'idea del gioco dietro e la trottolina, però i personaggi li ho già visti alcuni, sono anche stampati qui. Abbiamo il nostro, il goblin della Gringot, abbiamo il carrello che scorre nei binari della Gringot, il tavolo con la festa di Halloween, quindi con le zucche, il solito albero di Natale, ma anche il cartello di Private Drive, abbiamo diverse cose che fanno riferimento al primo film. Abbiamo anche la torta di compleanno di Harry, e abbiamo anche la minifigure di Dudley, abbiamo diverse cose che mi fanno molto molto piacere trovare all'interno del calendario. Non mi convince tantissimo questa trottola, e questa sorta di gioco inutile di andare avanti e indietro nel tabellone. Però, ragazzi, ecco qui. Naturalmente, qualora foste più curiosi, mi raccomando, seguitemi su Instagram, così lo apriremo assieme. Non mi va di aprire tutte le caselle adesso, come fanno molti su YouTube, perché non lo trovo sensato, ve lo dico ogni anno. Lo apriamo assieme, passiamo questi 24 giorni assieme, su Instagram, e commentiamo, sorpresina per sorpresina. Ragazzi, fatemi sapere se anche voi l'avete acquistato, di solito in tanti vi mandate anche le vostre foto della casellina il giorno dell'apertura, e questa cosa mi fa molto molto piacere. Trovate, naturalmente, il link per acquistare sia il calendario che tutto il resto in infobox. Credo di avervelo già detto almeno 6-7 volte, ma, ragazzi, ho bisogno anche del vostro sostegno per mandare avanti la baracca. E, detto questo, io vi do appuntamento a prestissimo con tante altre novità. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, commentate, condividete, fate tutte le solite cose, e io adesso chiudo il becco e vi do appuntamento alla prossima. Ciao! Ciao!